Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Siete pronti per preparare questa sofficissima ciambella al caffè interamente vegana, priva di latte, uova, burro, è davvero straordinaria. Ottima anche per la merenda perché è molto molto light, quindi leggera. Mi raccomando ricordate di lasciare un like, di iscrivervi al mio canale, di salvare anche la ricetta che vi lascerò non solo scorrere in video ma anche in descrizione. Bye bye e alla prossima! Grazie per la visione!